Ci troviamo qui in uno dei controviali di Viale Cairoli che abbiamo appena riqualificato, sia nella sostituzione delle cordellature che erano naturalmente degradate, ma anche nel rifacimento dell'asfalto. Ora a questo quartiere attendono altre nuove asfaltature che stanzieremo con l'ultimo nuovo appalto, su cui stiamo tra l'altro già lavorando, a partire dal Google ma ci sono altre traverse ammalorate, su cui interverremo con certezza e una riqualificazione importantissima che riguarderà il nuovo sottopasso che realizzeremo con Ferroviei dello Stato e partirà a giugno, tanto che nella prossima settimana incontreremo gli imprenditori, quindi inviteremo gli imprenditori del posto per avvisare sul cronoprogramma dei lavori. Su questo ci tengo a dare degli aggiornamenti rispetto alle asfaltature che sono in corso e presto prenderanno il loro corso proprio per dare una risposta puntuale. La prossima, subito dopo Pasqua, partiranno le asfaltature sia di via Cacciafame, via tutta la parte della zona industriale, quindi la parte di via Enaudi, dal nuovo parcheggio del Fano Center fino ad arrivare al distributore, su tutta l'area all'interno del Brico, compreso il parcheggio, e poi passeremo in via Meda, in via Vampa e nel tratto di via Roma. Successivamente interverremo anche in via del Domenichino, sempre nel mese di aprile. Via del Domenichino ha due parti, la parte alta e la parte bassa. La parte alta avverrà ad aprile, la parte bassa invece avverrà a maggio, perché sono due le società che intervengono differenziate, per cui ci hanno dato un cronoprogramma diverso. Dopo quella interverremo in via Fraghetto, ci sposteremo in via Cuoco, via Giannone, via Condotti. I primi di maggio faremo tutto l'anello della Piazza del Popolo e via Giusti, per poi intervenire in via Fosso Sant'Orso e anche presso Piazzale Bonci e Viale Mariotti, che questi sono interventi che faremo conseguentemente all'intervento di moderazione del traffico, nuovi marciapiedi e pista ciclabile, che anche questo è prossimo a partire. Prossimo significa due o tre settimane, saremo già al lavoro. Dopodiché andremo in via Galileo Galilei, in via Bellandra, interverremo anche sul parcheggio dello Sport Park che è versa in condizioni indocorose, ci sposteremo anche in Viale Europa, in Viale della Resistenza, per poi fare anche delle vie legate al quartiere della Paleotta, che sono via Niccolò D'Afano, via del Guercino e via Reni. Naturalmente interverremo anche su metà della strada di via Girolo a Modafano, che è dove sono stati già fatti degli interventi importanti, c'è un pezzo che è più ammalorato degli altri, e in tutta quella che è la località di Sant'Andrea, dove Aset è intervenuto con i sottoservizi dell'acquedotto. Successivamente passeremo anche sulle strade del lungomare di Sassoni, invece una parte di via L'Adriatico, in via della Marina, via Caduti del Mare, via del Perugino, via Giotto, via Campioni e via Manzoni, via Raffaello Sanzio, via di Villa Uscenti, via di Tolentino, via Cingoli e via Osimo, dove in quest'ultima parte di strada che ho appena citato, deve ancora essere individuato il tipo di intervento da effettuarsi, proprio alla luce di quelli che sono stati i lavori di sottoservizi fatti in quest'anno. considerato che, come dico sempre, non si può intervenire subito, perché altrimenti non si stabilizza il terreno e si rischia di fare un lavoro malfatto e doverci ritornare. Oltre questo andremo a fare delle bonifiche importanti anche su Viale Romagna e Viale Primo Maggio. Nell'ultimo appunto appalto di lavori che stanzieremo a breve, perché abbiamo appena approvato il bilancio, ma su cui stiamo già lavorando, ci saranno delle risposte significative, sia per il quartiere del Poderino, sia per il quartiere del Lido, della Paleotta e comunque anche altre strade di Fano Sud e più in periferia. Non dettaglio le vie perché lo farò nella prossima occasione in cui approveremo definitivamente il progetto.